A mio fianco Biagio Pepe, buongiorno Biagio. Buongiorno Martino, ci ritroviamo ancora una volta. Finalmente, infatti uno sempre dei pochi che viene e finalmente possiamo parlare di varie cose e anche perché sei un occhio esterno insomma dal Consiglio Comunale. E allora, che cosa sta succedendo a Praia Mare? Perché in questi giorni abbiamo ricevuto diverse notizie tra i commercianti e i cittadini che si lamentano per l'Atari in un'unica soluzione. Ma c'è anche la questione di Emanio. La uscita o non uscita di Antonino De Lorenzo dal Consiglio Comunale o meglio dalla maggioranza, ancora non si è capito. Qual è la tua opinione? Ma io più che dire che cosa sta succedendo, io direi che cosa non sta succedendo. Perché mi verrebbe quasi da iniziare, parafrasanto, un po' una canzone di Bennato. Quella era l'isola che non c'è. Io direi che a Praia la politica che non c'è. Perché Praia è un paese che sta attraversando un lungo periodo molto strano. Dove chiacchiere se ne fanno tantissime. Però poi alla fine i risultati non sono quelli che dovrebbero poi seguire le chiacchiere. Prendendo l'esempio appunto di quello che sta facendo l'assessore, io lo specifico, lo sottolineo, l'assessore Antonino De Lorenzo, che comunque sulla stampa esce con comunicati di netta rottura con il sindaco. E in politica quando un assessore entra in netta rottura con il suo sindaco, la prima cosa, il primo passaggio è quello di rimettere le deleghe nelle mani del sindaco. Quindi uscire comunque dalla giunta, non dal consiglio comunale. Attenzione perché il consiglio comunale è un'altra cosa. In consiglio si entra grazie ai voti di un elettorato, quindi è anche giusto che Antonino De Lorenzo mantenga la sua posizione all'interno del consiglio comunale. Quella che invece fa strano è questa sua posizione ambigua con la delega ancora in mano da assessore. Si vocifera che lui dice che si aspetta che sia il sindaco a toglierle. Io credo che questa non è proprio correttamente la cosa, perché sei tu, caro Antonino, che sei andato in rottura con il sindaco, quindi sei tu che devi lasciare quel posto in una giunta dove tu non ti senti più a casa tua. E con questo chiudiamo il passaggio dell'assessore De Lorenzo, anche perché se ne sta parlando tanto. Io non vorrei troppo soffermarmi su quello che Antonino fa o non fa. Antonino è un carissimo amico, il mio pensiero, io glielo ho sempre detto di persona, quindi sa come la penso. Abbiamo letto anche su Facebook, voglio dire. Esatto, sa come la penso, quindi chiudo qui l'argomento Antonino. Velocemente invece il passaggio sulla Tari. La Tari, io sabato ho seguito la tua trasmissione, come sempre faccio naturalmente, e mi è piaciuto tantissimo l'intervento della consigliere di minoranza Maria Pia Malvalosa, che a dire vero lei già in consiglio comunale, quando è stato approvato appunto la rata unica, fece un bellissimo intervento dove faceva notare l'incoerenza dell'amministrazione, perché in quel stesso consiglio l'amministrazione approvò la possibilità di rateizzare i tributi non pagati da parte dei cittadini, affermando che riconosceva una certa difficoltà nei cittadini nel pagare i tributi. Allora, se tu riconosci la difficoltà dei cittadini, perché poi mi vai a mettere una rata unica che andrà a creare ulteriore morosità? Anche perché bisognerà pagarla tra nove giorni. Esatto, è una cosa assurda, perché io insomma so di cartelle esagerate per chi ha grosse attività, ma anche per le famiglie, perché attenzione, già anche un 250, un 260 euro in rata unica per una famiglia che magari campa con uno stipendio di 600, 700 euro, perché ci deve pagare il fito, deve pagare la Tari, guardate che sono sofferenze. Allora io mi aspetto da un'amministrazione che solitamente dice che ci tiene per il paese, quindi ci tiene per la propria cittadinanza, io mi aspetto da un'amministrazione così un atto diverso, un'azione diversa, cioè di non usare questo metodo, ma di andare in conto ai cittadini. Ci sono comuni che la Tari la si paga in tre rate, allora perché qui una rata unica? Ecco io non ho ancora capito la motivazione del perché di questa rata unica e mi farebbe piacere se i consiglieri di maggioranza, non solo il sindaco, ma i consiglieri di maggioranza si prendessero le loro responsabilità e ne parlassero anche loro, perché poi nel paese tutti che addossano la colpa al sindaco, il sindaco di suo ha le ordinanze sindacali che sono una sua decisione. Ma questi atti sono atti di giunta e di consiglio comunale che vengono votati da assessori e da consiglieri. Quindi le responsabilità su queste situazioni non è che sono solo del sindaco. Io ho questa storia del sindaco accentratore che tutti insomma dicono, beh comincia a essere un po' stancante perché a me mi sembra quasi una scusante. Cioè io sono in consiglio comunale di maggioranza e dico, vabbè ma il mio sindaco è accentratore. Ok ma tu alzi la mano in consiglio comunale, tu voti determinate decisioni. Quindi prenditi le tue responsabilità. Quindi stamattina allarghiamo un po' la sfera. Non parliamo sempre del sindaco e non parliamo sempre di Antonio De Lorenzo che comunque ripeto è condivisibile, non condivisibile. Lui adesso sta facendo un suo percorso. Io rimanco della mia idea che comunque dovrebbe dimettersi da assessore. E gli altri? E gli altri? Tutti, è tutta colpa di Antonio. Come dire bene, la vecchia canzone è tutta colpa di Alfredo. Sì, a Praia appunto c'è questa moda, è tutta colpa del sindaco e gli altri, gli altri comunque ripeto, come dicevo prima dell'interruzione con il meteo, gli altri comunque alzano la mano in consiglio comunale. Ogni tanto, io sto andando a vedere i consigli, si fanno anche delle risatine quando magari la minoranza prova ad aprire una discussione che è poco rispettoso, secondo me, fare delle risatine sotto banca, quasi a prendere in giro la minoranza, quasi a dire, ma sì, voi dite quello che volete, tanto noi siamo maggioranza, noi abbiamo i numeri, noi decidiamo. Alziamo la mano. Però poi, attenzione, nel momento in cui alzate la mano e decidete, tipo appunto, la rata unica della Tari, beh, allora poi dovete prendervi anche le responsabilità, non fate che poi fuori addossate sempre la colpa solo al sindaco. Anche perché, voglio dire, questa decisione era passata un po' in sordina, è stata presa insomma a marzo, aprile, e poi è passata un po' in sordina. Beh, sì, è passata in sordina fino a che non sono arrivati i pagamenti, e lì poi ci si è accorti. A proposito, fammi fare un piccolo passaggio perché è doveroso, è un carissimo amico, è responsabile al servizio tributi, e mi dispiace quello che gli sta succedendo, perché poi ecco, apprecia anche una disinformazione di questo tipo. Molti credono che la rata unica venga decisa dagli uffici, e allora questa bravissima persona, tra l'altro, è stato un po' preso d'assalto. Preso d'assalto. Beh, io vorrei dire ai cittadini, guardate che il dipendente non è lui che ha deciso la rata unica, la rata unica è stata decisa in Consiglio Comunale. Era doveroso anche questo passaggio, perché mi sono trovato ad assistere proprio mentre stavamo chiacchierando con questa persona, che è stato fermato da cittadini, insomma, arrabbiati con lui. Ma a lui, poverino, cosa c'entra? Non è che perché c'è la sua firma, lui è responsabile del servizio, è normale, ma non è lui che decide la rata unica. Quindi mi raccomando, cari cittadini, informatevi anche su questo. C'è un indivizio politico. Sì, sì, no, c'è un indivizio politico. Le previsioni del tempo, prima del caro Selui, a quale mando i miei saluti, che è una persona veramente fantastica, mi hanno portato anche un'altra riflessione. Quella che facevo ieri durante una mia passeggiata. Torno sempre a ripetere le stesse cose, ma vogliamo svegliarci, vogliamo capire che con quello che noi qui abbiamo non dovremmo stare a lamentarci, ma bensì dovremmo essere ancora impegnati a lavorare? Cioè, questa è una cosa che ancora una volta io voglio lanciarla e voglio far riflettere su questo. E parlando, vedi come mi vado poi a collegare con tante cose, e parlando di paesaggio, parlando di ambiente, un'altra cosa che mi fa strano è quello che sta avvenendo al Capodarena. Cioè, c'è una bellissima operazione in corso, voluta da Italia Nostra, è riuscita ad avere dei finanziamenti. Purtroppo ha portato alla luce. Ha portato alla luce di cose che comunque sapevamo tutti. Sapevamo come no, sepolte. Chiunque va a mare da quelle parti, anche con una semplice maschera, si fa un bagno, sappiamo quello che c'è nei fondali lì al Capodarena. Però adesso c'è questa azione di Italia Nostra a quale va il mio applauso, perché comunque è veramente una bella iniziativa, sono riusciti ad avere un finanziamento. Stanno facendo una bella opera di bonifica, certo. Non sarà un'opera totale, perché i costi sono alti e il finanziamento, come sappiamo, si aggira intorno ai 40 mila euro. Quello che mi fa strano è vedere un'amministrazione assente anche su questo. Cioè, l'amministrazione, forse solo perché è un'associazione diversa dall'ambito dell'amministrazione, non ha detto niente, non dice niente su quello che sta avvenendo lì a Capodarena. Purtroppo lì sono stati trovati, è stato pescato un numero tale di copertoni da Falco a Uri. Una cosa impressionante. Una cosa impressionante, quindi io mi aspettavo che anche, almeno in questo, l'amministrazione scendesse al fianco di questa associazione per dare ancora più spessore a quest'operazione che si sta facendo. Perché veramente, poi siamo andati su TG3, tra l'altro con delle bellissime immagini, perché il tempo appunto ci sta favorendo. Quindi abbiamo visto delle immagini del mare stupendo. E tu amministrazione, tu amministrazione, non tu sindaco, tu amministrazione, consiglieri di maggioranza, ma cosa fate? Cioè, ma uscite un po', uscite dall'ambito del ruolo che ricoprite e cercate di fare politica. Ecco perché prima dicevo la politica che non c'è. Sì, 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 sembra quasi per l'appunto che anche di fronte ad una discussione politica, abbiamo avuto qui anche la minoranza, come se tutto andasse bene, cioè come se non ci fosse neanche bisogno di una replica. E poi succedono quelle storture che abbiamo detto di cittadini che non sanno a chi rivolgersi. Sì, sì, perché quando non c'è comunicazione poi alla fine si va in confusione, è normale. E ce ne sono tante cose. Purtroppo... Ne continuiamo a parlare. Purtroppo sono tante cose. Sta arrivando il Natale. Il Natale. Tra un po' ci siamo. E anche se è vero che sembra estate, però... Sì, infatti parlare di Natale con queste temperature, insomma, mi sembra un po' un attimino... Fa strana la cosa, però siamo al 21 ottobre, quindi fra due mesi siamo proprio nel vivo della settimana natalizia, quindi già ci dovrebbe essere comunque del fermento per cercare almeno di rimovimentare quel periodo di festività e per dare un po' di respiro al commercio. Quindi spero che anche in questo l'amministrazione faccia qualcosa, anche se attualmente anche lì silenzio totale. Perché poi l'altra cosa brutta è quello di calare le cose dall'alto. Cioè, ma cerchiamo di coinvolgere il paese, perché se poi una cosa anche bella, viene calata dall'alto, è normale che il paese non la recepisce come la dovrebbe recepire, perché non è stato fatto parte integrante di questo progetto. Questo camminare così, a zonzo io direi, camminare da soli, non aiuta la crescita di un paese. Tu sei anche nel commercio, sei d'accordo sul fatto che comunque i commercianti sono usciti fuovi dall'estate, non con le pile caviche come qualcuno va bene, noi ne avevamo già parlato ancora prima che l'estate finisse caro Martino, mi dispiace dire io l'avevo detto, cioè è brutto questa cosa, io l'avevo detto, però io l'avevo detto che l'estate 2019 non sarebbe stata un'estate da ricordare in positivo, ma bensì in negativo. Le attività già siamo, siamo, mi ci includo anch'io naturalmente perché ho un'attività, già siamo sofferenti e qui bisogna aspettare per rivedere insomma aumentare l'introiti l'estate prossima è lunga la cosa, è molto lunga, ecco perché Natale, Pasqua sono palliative. ma ecco perché non bisogna più vivere di solo di sola estate, vedi ieri Trecchina era strapiena, Trecchina, un paesino di montagna, era strapiena con questa ormai sagra delle castagne che sta prendendo sempre più piede, Trecchina ha avuto anche un buon ritorno dal Parco delle Stelle che comunque è un attrattore che sta andando, poi si può discutere se è utile o non è utile però intanto sta andando. L'altra domenica io passando da Trecchina ho avuto la piacevole sorpresa anche del pienone per un piccolo centro ippico che si sono fatti però un piccolo centro ippico che lo stanno utilizzando per delle manifestazioni e l'altra domenica non questa di ieri ma l'altra ancora Trecchina aveva gente anche da questo. Cioè cosa fa capire che ormai in questi paesi dove non si hanno industrie non si hanno posti di lavoro se non quelli del comune ma non è che possiamo vivere solo di stipendi comunali insomma in quei paesi dove non c'è nessuna di queste cose bisogna attivarsi per far sì che ci sia un'economia diversa e noi di Praia insomma abbiamo tanto da poter attivare per avere un'economia diversa e per avere un'economia che si va a spalmare per più mesi perché quei 20 giorni di agosto che poi non sono 20 giorni ma voglio essere buono ma una settimana quei 20 giorni di agosto non portano niente non portano i risultati che tutti noi insomma ci auguriamo di avere perché purtroppo l'estate praiese sta ahimè andando spegnendosi anche perché il mercato turistico l'abbiamo detto più volte ormai è cambiato ormai la gente si informa la gente ormai ha internet e ha tutto quindi il mercato turistico ormai se non sei a passo con i tempi con le altre località tu vieni schiacciato da altre località che stanno facendo molto di più di noi insomma c'è tanto tanto da fare c'è anche bisogno comunque di un movimento popolare o di un movimento dei commercianti ci sarebbe di tanti c'è bisogno di tante cose movimento commercianti movimento albergatori ma qualunque cosa che dia movimento alla vita del paese il problema è che puntualmente ci ritroviamo sempre e solo i soliti a parlare la minoranza parla e magari uno dice vabbè ma loro parlano perché sono contrari no sono stati delegati dalla cittadinanza a fare il ruolo di minoranza e loro fanno il ruolo di minoranza quindi se ci sono cose da denunciare le denunciano Biagio Pepe parla ma Biagio Pepe parla perché è stato anche dentro ha avuto modo quindi di conoscere che è vero che una macchina amministrativa non è facile attenzione nessuno ha la bacchetta magica però io credo che si possa fare di diverso poi mi fa piacere che comunque ultimamente le nostre azioni dell'amministrazione Lomonaco di cui io ne sono andato sempre fiero tant'è vero che il mio cammino è finito nel momento in cui non c'è stata la continuità di quel progetto non ho voluto far parte di altri progetti o surrugati simili e mi fa piacere vedere che oggi a distanza insomma di un bel po' di anni comunque le lamentele che Antonino fa manca una PSC un piano strutturale comunale non è che manca c'è perché il consiglio di stato e la Cassazione ha riabilitato il nostro manca un piano spiaggia il piano spiaggia ci poteva essere perché il nostro piano spiaggia alla fine andava bene era stato approvato anche dalla provincia poi è saltato fuori che c'era una modifica da fare benissimo facciamo quella modifica sull'area SIC ma il piano spiaggia c'era quindi caro Antonino queste cose che mancano tu ne hai votato in consiglio comunale l'annullamento esatto questa purtroppo poi è storia Viaggio io voglio concludere con te anche però su un'altra riflessione hai parlato proprio dei tuoi anni come amministrazione io però ho notato una cosa un'intera classe politica generazione politica è scomparsa e quindi io voglio dire tra qualche anno praia mare a chi si dovrà affidare una colpa grandissima su questa situazione ce l'abbiamo proprio noi del mezzo ovvero sia quarantenni e cinquantenni beh io anche questo voglio lanciare un invito ai miei coetanei anche quelli più piccoli allora la fascia di età 40-50 anni siamo noi adesso che dovremmo avere la responsabilità la responsabilità lo sottolineo di prendere in mano la situazione e di essere da traghettatori alle generazioni che stanno nascendo e che stanno crescendo perché se qui non avviene questo passaggio praia veramente fra qualche anni sarà orfana proprio orfana totalmente di politica ed è grave questa cosa quindi oggi più che mai bisogna quarantenni e cinquantenni mi raccomando prendiamoci le nostre responsabilità noi dobbiamo prendere in mano la politica praiese ma non per farne un altro feudo attenzione non dobbiamo metterci lì e starci noi a vita come qualcuno ha fatto fino ad oggi no dobbiamo essere dei traghettatori quindi prendere in mano praia cercare di darla poi in mano alla generazione che sta crescendo perché se no qui veramente praia io la vedo dura la vedo come un paese dell'entroterra che va a morire e noi non siamo un paese di entroterra noi siamo un paese costiero e i paesi costieri non dovrebbero svuotarsi così come si sta svuotando praia bene io ti ringrazio viaggio e soprattutto ci vedremo poi prossimamente vediamo che cosa succederà io spero sempre che anche questa intervista sia da stimolo anche per vedere qualcun altro qui seduto e ci spero sempre fammi chiudere con una battuta prego ci vedremo sicuramente ci risentiremo sicuramente con te Martino e con te una promessa ma per altri questa è una minaccia infatti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti